È in corso di svolgimento, terminerà il 30 giugno 2021, il settimo censimento generale dell'agricoltura coordinato dall'Istat e nelle marche dalla PF Performance e Sistema Statistico in collaborazione con le strutture del Servizio Agricoltura Regionale. Nelle marche le aziende interessate alla rilevazione sono circa 51.000. L'Istat ha inviato a tutti i conduttori agricoli una comunicazione ufficiale con le modalità per la compilazione del questionario e le credenziali di accesso al questionario elettronico. Obiettivo del censimento è aggiornare il quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole, fornendo informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del registro statistico di base delle unità economiche agricole, tenuto appunto dall'Istat. Lo svolgimento del censimento è obbligatorio in quanto è previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. È quanto sottolinea Mirko Carloni, Assessore regionale all'agricoltura. Anche la novità rappresentata dalla possibilità di ricorrere all'aiuto dei centri di assistenza agricola è importante. Informazioni e assistenza possono essere richiesti contattando il numero verde 800-961-985, attivo fino al prossimo 30 giugno dalle ore 9 alle ore 21, dal lunedì al sabato esclusi festivi. Oppure scrivendo a numeroverde.censagr.istat.it o consultando il sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it